Abbiamo salutato questo istituto come uno strumento per poter finalmente rimuovere una delle più incombenti criticità che caratterizzano la nostra vita professionale, e cioè i tempi della decisione. È uno strumento che sicuramente, così come il legislatore, l'ha voluto strutturare il deflattivo del contenzioso ordinario. È quindi uno strumento che può consentire il raggiungimento di quel risultato anelato anche dalla nostra categoria, oltre che dagli utenti della giustizia. Si tratta a questo punto di fare e di, come dire, organizzare, implementare un sforzo anche di natura culturale, sì da indurre a un utilizzo più sistematico di tale strumento, consentendo così che lo stesso raggiunga quei risultati sperati. Anche dopo la riforma cartabia il nostro organismo di mediazione si sta adattando sempre di più ai nuovi adempimenti, alle nuove tempistiche e anche alle nuove tariffe e alle nuove procedure. E devo ringraziare essenzialmente sia i colleghi mediatori, sia i colleghi avvocati. Credo che fondamentale sia ancora la formazione costante che deve essere sviluppata e sostenuta in favore appunto dei colleghi, anche per poter trasferire nei confronti dei clienti e di tutti gli utenti, quindi non solo l'utente finale, quindi il cliente, la parte, ma anche tutti gli altri utenti che si approcciano alla mediazione. È stato un anno importante perché c'è stato a novembre un passaggio di consegne. Il nuovo DM che ha modificato l'impianto della mediazione, la struttura degli organismi di mediazione, la formazione e quindi ha chiamato un pochino tutti gli organismi di mediazione a elevare, come giusto che sia, la qualità della mediazione, perché la mediazione funziona se ha un livello di qualità, uno standard di qualità molto alto e con essi anche i mediatori che compongono anche gli organismi, in tutti i tipi di settori, dal privato al pubblico. Anche i colleghi, gli avvocati hanno compreso quelle che sono le opportunità e anche quelle che possono essere le finalità da poter utilizzare in mediazione. Hanno anche compreso che con la mediazione si possono risolvere anche con una giurisprudenza o un confronto in diritto più creativo, un po' più fuori dal recinto del giudizio.